tutti oggi ho deciso di realizzare un gelato veloce alla pesca la sera prima ho preso tutte le pesche le ho sbucciate e le ho tagliate a pezzi le ho messe nel congelatore ed ecco il risultato adesso lo inserisco dentro il boccale insieme a due pesche sbucciate però fresche irrorate con dello zucchero infatti si è formata questo succo azioniamo i bimbi 15 secondi velocità 8 come potete vedere questo è il risultato guardate il mio gelato super cremoso il risultato guardate il mio gelato super cremoso